Il Vangelo di Giovanni In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tembre, e le tembre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vela, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo era stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non l'hanno accorto. A quanti però l'hanno accorto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del figlio omogeneto, che viene dal padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclamano. Era di Lui che io dissi, colui che viene dopo di me, è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio omigeneto che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Sorelle e fratelli carissimi, questa seconda domenica del tempo di Natale capita proprio il giorno dopo Capodanno. Quindi approfitto per fare a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, alle vostre comunità, i migliori auguri per un sereno 2021. E in questa seconda domenica del tempo di Natale, il Vangelo che la Buona Novella ci propone è lo stesso Vangelo che abbiamo ascoltato il giorno di Natale, il cosiddetto Prologo di San Giovanni. I primi 18 versetti del Vangelo di San Giovanni, che egli, come si usa fare quando si scrive un libro, ha scritto dopo aver scritto tutto quanto il Vangelo. In questo Prologo c'è la sintesi di tutto il Vangelo. C'è tutto ciò che Giovanni, apostolo ed evangelista, aveva capito di Dio, di Gesù, del mistero, del Dio fatto nuovo. In questo Prologo Dio si dice, si racconta e ci racconta, ci dice, ci dice ciò che Lui è e ciò che noi siamo chiamati ad essere, proprio essendo venuti al mondo per mezzo di Lui. Perché come ci ha ricordato San Giovanni, di tutto ciò che esiste, nulla esiste al di fuori di Lui. Gesù nasce perché a nostra volta noi possiamo rinascere. E possiamo rinascere come figli di Dio. Questo è il potere che il Signore Gesù ci dà. Non è un nostro merito, non è uno sforzo della nostra volontà, ma è un dono di Dio, farci i Suoi figli. Figli del figlio dobbiamo vivere, come ha vissuto Lui, il figlio unicente, il femminetto del Padre. E Gesù ha vissuto come vita, come amore e come luce. E ciascuno di noi deve vivere come vita, come amore e come luce. Questo disegna la nostra identità. Questo disegna la nostra vocazione e la nostra missione. Ed è proprio per questo motivo che nel mondo di oggi, come nel mondo di sempre, ci sono migliaia di venditori, di amore, di luce e di vita. Noi dobbiamo scegliere che tipo di amore vogliamo vivere. Dobbiamo scegliere che tipo di vita vogliamo concretizzare nella nostra esistenza. Che tipo di luce vogliamo essere. Il mondo ci presenta delle alternative alla proposta del Signore Gesù. Sta a noi decidere se le alternative del mondo sono sufficientemente valide oppure se le alternative del mondo non reglino la proposta del Signore Gesù che siamo chiamati ad incarnare. Egli è sempre con noi. Non c'è un Dio più vicino a noi di quanto non ci sia stato Gesù, il figlio di Dio che si è fatto ruolo. Questo è il vero miracolo, fratelli e sorelle carissimi. Non tanto che l'uomo sia stato in grado di andare sulla Luna, che sarà in grado di andare su Marte, che gli uomini, oltre che gli astronauti di professione, fra un po' andranno nello spazio, così come facciamo i viaggi nel mondo. Ma il vero miracolo, la vera meraviglia, è che Dio si è fatto uomo, che Dio è sceso in mezzo a noi e ha posto la sua terra in mezzo a noi. Che Dio si è fatto uomo, bisognoso di latte e di carenze, capace di condividere la nostra fragilità e la nostra debolezza, perché anche noi, ciascuno di noi, possa essere figlio di Dio. Questo dono è stato dato a tutti. La vita che viene dal Signore, l'amore che il Signore ci dona, la luce che il Signore ci offre, è per ogni uomo, bambino o adulto, uomo o donna, dentro la Chiesa e fuori della Chiesa. Nessuno è escluso dall'amore, dalla vita, dalla luce che viene da Dio. La luce poi è ciò che apre la scrittura, ciò che chiude la scrittura, ciò che è presente in ogni pagina della Bibbia. La prima parola che si sente dire nella Sacra Scrittura è sia la luce. L'ultima parola che viene pronunciata nel libro dell'Apocalisse è che le tenebre non vinceranno la luce del Signore, e gli uomini non avranno più bisogno né di luce di lampada, né della luce del sole, perché la loro luce sarà il Signore, la luce di ogni uomo sarà la niente. E poi, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, Gesù ci ricorda Io sono la luce del mondo, chi segue me avrà la luce della vita. Allora accogliamo questo messaggio, accogliamo questa grazia che il Signore ci offre, e dopo aver fatto nostra la legge di Mosè, che era la grazia dell'Antico Testamento, facciamo nostra anche la grazia del Nuovo Testamento, la presenza di Gesù, e non andiamo dietro ad altre luci, accogliamo la luce che è Cristo Signore, in modo tale che anche noi possiamo essere luce per gli altri, così come la luna riflette la luce del sole. La luce non sarà nostra proprietà, è sempre la luce di Cristo, ma noi dobbiamo ritrasmetterla agli altri, proprio appunto come fa la luna che trasmette la luce del sole. Certo, la luna ha ciò che può impedirla, se ci sono le nuvole fra la luna e il sole, la luna non è più capace di riflettere la luce del sole. Anche noi, a causa delle nostre fragilità, dei nostri peccati, delle nostre negligenze, potremmo essere impossibilitati a riflettere la luce del Signore Gesù, ma possiamo sempre tornare a splendere alla Sua luce, possiamo sempre tornare ad essere annunciatori e testimoni del vero amore, della vera vita, della vera luce. Dobbiamo ovviamente evitare di essere mio, di essere presbiti e di essere astigmatici nel cuore, perché altrimenti non vedremo il Signore Gesù presente lontano da noi, come quando uno è mio, non lo vedremo vicino a noi, come quando uno è presbite, e non lo vedremo a fuoco come quando uno è astigmatico. Se invece ci lasciamo guidare dal Vangelo, ci lasciamo guidare dalla luce della parola, noi potremo davvero essere annunciatori e testimoni credibili del verbo di Dio che si è fatto tarde e ha posto la sua dimora in mezzo al mondo. E' il mio augurio per il nuovo anno appena iniziato, essere personalmente e tutti insieme come comunità ecclesiale, annunciatori e testimoni della luce che viene dal Signore, della sua vita, del suo amore. Grazie.